La questione primordiale allora è come vivere e quindi necessariamente come vivere insieme. Diventare gli uni per gli altri dei vicini, nonostante i confini, cercare un punto di giuntura, articolarsi insieme, studenti, pensionati, albanesi, voriani, nigeriani, italiani, come tessere dei legami che liberino e non solo che imprigionino. Fabbricare un gruppo, dei gruppi piuttosto, al plurale, far giocare tra loro i propri gruppi interiori. Metterli in contatto con quelli degli altri.